Con questo video inizieremo una serie di lezioni, se così possiamo chiamarle, introduttive al pensiero antroposofico di Rudolf Steiner. Un pensiero che occupa diversi ambiti del sapere ed è vastissimo nella sua portata, che ci dà l'occasione di riflettere su molteplici sue manifestazioni. Innanzitutto ci dà l'occasione di pensare la medicina, di pensare l'arte, l'educazione, quindi la pedagogia, ma anche la filosofia e di ripensare il corpo sociale in una dimensione differente. Lo faremo in maniera per cenni, rapida, in modo da porre delle suggestioni che possibilmente poi ognuno è invitato ad approfondire autonomamente nella misura in cui egli stesso ritiene interessante uno di questi ambiti che qui vengono proposti. E per farlo incominciamo con una definizione che Rudolf Steiner dà della antroposofia nel 1922, quando in una conferenza, perché oltre che scrittore, era fondamentalmente un conferenziere, e infatti la maggior parte di quelli che sono considerati i suoi testi oggi sono nient'altro che le registrazioni, le annotazioni, gli appunti, potremmo dire, scritti e rivisitati poi da parte dei suoi auditori delle sue conferenze, che in tutto il mondo egli tenne. E qui a Londra, nel 1992, sostiene, enuncia, questa definizione di antroposofia, la disciplina che letteralmente, secondo un punto di vista antropo-etimologico, significa saggezza dell'uomo, quindi appunto il greco sofia, saggezza, e antropos, uomo, compongono questa nuova parola che non era presente nel vocabolario culturale europeo precedente, a questo suo conio, e che viene definita appunto come una dottrina orientata sulla necessità di vita e conoscenza degli uomini. Essa è anche una forza di tipo spirituale, che può penetrare e far fruttificare tutto l'uomo in tutte le sue capacità. In questo modo la vita antroposofica è un fattore operante nei diversi campi dell'esistenza umana. Quindi viene enunciato subito il carattere spirituale, la forza operante dello spirito, che ciascun uomo può ritrovare nell'approccio antroposofico, e la sua natura totalizzante, perché opera in tutti i campi questa vita antroposofica di quella che è definita l'esistenza dell'uomo. E un primo testo che vogliamo affrontare è il testo noto come Il Credo, che fu scritto intorno al 1888, quando Steiner aveva 27 anni, e che venne poi anche pubblicamente enunciato nella sua ventiduesima conferenza. E questo, credo, ha come sottotitolo L'individuo e l'universo, o altrimenti tradotto Il singolo e il tutto, che ci rimanda a questa polarità della parte che ciascuno di noi è in relazione alla totalità entro la quale ciascuno individualmente è collocato. E in che misura è collocato? Che relazione c'è? Qui queste sue idee così proposte vengono a definirsi, e vediamo come. Sostiene che il mondo delle idee, dice Steiner, è la fonte prima e l'inizio di tutto ciò che è. Quindi l'originario è nell'ideale. L'idea è spirito. L'idea è spirito autosufficiente e compiuto, limpido. Il singolo, invece, deve avere in sé lo spirito, perché altrimenti la sua esistenza sarebbe inutile. Ecco, come qui si vede bene, la natura singolare dell'individuo lo rende ciò che può rendere manifesto in sé lo spirito. E quindi è lo spirito a vivificare la singolarità di ogni uomo. E lo spirito coincide con l'idea. Il mondo delle idee è il mondo dello spirito. Il mondo dello spirito che non ha, per il tedesco, alcuna connotazione spiritualistica o particolarmente necessariamente religiosa. E quindi, secondo Steiner, in questo testo ci viene detto che soltanto ciò che trae la sua esistenza dall'idea significa qualcosa nell'albero della creazione, nell'albero cosmico della creazione. Cioè, nella misura in cui ciascuno di noi trae la propria forza vivificante da un'idea, soltanto in tale misura egli esiste pienamente, significa qualcosa nel mondo, nell'universo, nella totalità. Quindi ecco che il singolo può accedere a questa dimensione totalizzante del cosmo, dell'universo, mediando il proprio essere attraverso le idee che esistono in un mondo autonomo, che è il mondo delle idee. Quindi, noi esistiamo nel tutto, nella misura in cui traiamo la nostra forza vivificante, spirituale, da questo mondo illuminato delle idee, che ci rende partecipi dell'universo, della totalità. L'uomo naturalmente, nella quotidianità media, potremmo dire, riconosce però la propria individualità. E la propria individualità è un qualcosa che lo pone nella separatezza rispetto al tutto e rispetto agli altri. E per questo sente una nostalgia, nostalgia dell'idea, del mondo ideale, dal quale deriva come non individuo, come non ancora individualizzato. La individualità, la separatezza, è data dal mondo dei sensi materico che pone un al di qua e un al di là rispetto alla nostra coscienza data dalla nostra corporeità fisico-materiale. E questa nostalgia lo spinge a superare la propria individualità. Questa nostalgia spinge il singolo nella sua apparente atomizzazione a far rivivere in sé lo spirito e in questo modo elevarsi alla sua altezza e partecipare al di là di ogni forma egoistica della totalità dell'universo. Perché tutto ciò che è egoistico rende l'uomo quell'essere singolo che è delimitato, definito, circoscritto, tutto ciò che è sensualità, bisogno, istintualità, passionalità, è appartenente alla sfera dell'ego, alla sfera dell'individuo, nella sua dimensione più elementare e appunto egoistica. E ciò che è egoistico deriva dalla materialità e quindi dalla componente mortale destinata a perire, a venir meno, che è parte di noi. Quindi per acquisire un'autentica forma di immortalità è necessario appartenere alla vita cosmica universale. E quindi ecco la necessità dell'idea è una necessità che è posta alla base del nostro vivere nella misura in cui noi vogliamo, desideriamo per nostalgia reintegrarci nel cosmo, nell'universo, nel tutto. E in noi vive ancora questa dimensione di spirito. Vive ancora ed è nostro compito farla rivivere per superare dunque l'egoismo della vita. E sono quattro i modi fondamentali con cui noi siamo appellati a superare questa dimensione. E vengono elencati da Steiner in questo brevissimo testo che stiamo commentando. la prima è la conoscenza la seconda è l'arte e infine la religione e l'amore. La conoscenza viene detto è dedizione all'universo nel pensiero dedizione all'universo del pensiero la conoscenza è la forma più spirituale di dedizione generosa viene detto l'arte invece è dedizione nella visione una concezione contemplativa dell'arte dunque mentre la conoscenza è una dimensione pensante che quindi implica una attività della mente del pensiero beh l'arte invece è contemplativa perché si esplica nella visione a cui naturalmente noi dobbiamo dedicarci quindi c'è una componente attiva ma il dedicarsi nella visione manifesta una contemplazione estetica quasi del mondo la religione invece è nell'animo è dedizione che si ha dentro la sfera animica un'attenzione a questo mondo e infine l'amore che è dedizione con tutte le forze dello spirito a qualcosa che nell'universo ci appare meritevole di stima e allora l'amore che è anche detta la forma più bella spirituale e più interessante l'amore è una autentica luce celeste nella vita quotidiana viene affermato da Steiner e amare in questo senso sublime nel senso sublime in cui lui lo intende significa portare il respiro della vita divina là dove per lo più si può trovare soltanto lo spregievole egoismo e la passione incapace di rispetto ecco la potenza redentrice e vivificante spiritualizzante dell'amore l'amore supera l'egoismo l'amore supera la passionalità che non rispetta l'alterità invece quando si è nell'amore si porta lo spirito nel mondo e quando l'essere umano si trova in una di queste dimensioni che abbiamo detto la conoscenza l'arte l'amore e la religione quando si trova in una di queste sfere ha smesso di esistere solo e soltanto come individuo ed è entrato all'interno della divina vita delle idee è entrato all'interno del mondo ideale e ha raggiunto ciò a cui tende il germe posto nel suo cuore così si esprime Steiner si unisce insomma con lo spirito ma non si unisce in una dimensione che tradizionalmente viene così concepita in Occidente in Oriente cioè superando il corpo-mente superando la propria dimensione tanto corporale quanto mentale e andando al di là di questa prospettiva così dualistica e dissolvendo se stesso nell'unità del cosmo nell'unità della divinità che immanentemente si dà nel mondo no lo fa in maniera differente in un modo che è tipico dell'Occidente cioè restando all'interno della corporalità della materialità e della sfera noetica del pensiero della sfera pensante attiva o religiosa e e quindi lo fa in un modo che è così come l'Occidente ha elaborato le sue forme di vita e si all'interno però di queste forme di vita vi è la possibilità di vivificare proprio questo spirituale che è nell'uomo spirituale che è cosmico che è universale che è parte della della totalità dell'essere di cui noi siamo parte da un punto di vista superiore a quello meramente sensibile ma è attraverso la mediazione anche di ciò che è sensibile e la mediazione anche di ciò che è pensiero che noi possiamo abbiamo la possibilità di raggiungere ed elevarci a queste sfere superiori e quindi così conclude questo brevissimo testo Rudolf Steiner scrivendo consenti alla verità di diventare vita perdi te stesso per ritrovarti nello spirito universale questo è un po' il senso ci si deve perdere per ritrovarsi nell'universalità dello spirito rappresentando se stessi come colui o e chi è l'attrice dell'idea nel mondo colui che si vivifica mediante l'idea un'idea che si declina nella conoscenza nell'arte nella religione e nell'amore come forza spirituale così come l'abbiamo descritta grazie